agli sposi e a tutti quanti voi che siete in questa bellissima ciao oggi facciamo un applauso agli sposi allora per i ragazzi non sono disposto, non so che sono togliati ma io adesso come si dice in Galapia, lo vedo o non c'è quello con le pavere oh, se era elettronica non studiavi così se era elettronica non studiavi così quindi non è il materiale che deve studiavi è il movimento che deve studiavi ma l'elettronica è più leggera no? no i movimenti quelli sono andati a dire allora, mi invitiamo a guardare i discorsi al centro pista staccato, staccato, tutto, tutto ma è il canto che fai mo ciao eva, eva, eva e noi, segala presi dalla comunità di italiani con la nostra mano e il nostro amico e il solito con tutta la pelle io sono il caosso, io lo so il colico non è il personaggio che sono tutto il lavoro eva, eva, eva staccato, buongiorno Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.